Una volta che ho messo dentro la vite se non riesco a portarla nel punto diciamo verticalmente più basso mi conviene farci un mezzo giro indietro o in questo caso un giro indietro in modo che l'occhiello sia perfettamente verso il basso. Chiudo la mia levetta, ci metto il rinvio e poi ci passo la corda.